L'emozione, devi rompere degli schemi, mi ha arricchito tantissimo, mi dà la forza di buttarmi nonostante tutto, nonostante le mie chiusure, le mie timidezze, mi è servito tantissimo veramente. Non l'ho fatto per lavoro, era solo così per interesse personale, magari per riuscire a alcune cose, a raccontarle a mio figlio in una maniera che non sia proprio noiosa, fuori di misura. Mi sono divertita un sacco, mi sono venute in mente un sacco di storie, sono contenta anche per me stessa, è stata una meravigliosa esperienza, vi ringrazio. Non avendo a che fare mai con i bambini, per me sono un grande mistero, al di là di tutto è stato super arricchente per me, ho scoperto di poter tirare fuori quel lato bambino, quindi grazie veramente tanto, siete tutti e tre degli insegnanti meravigliosi. Questo tipo di formazione è come se ti desse una marcia in più, a capire anche più in profondità lo yoga stesso, come se tornassi alle origini, e poi questa componente teatrale che è un aspetto molto interessante. Mi è servito come percorso mio personale per riacquistare una parte di me che c'è e che mi dovevo riavvicinare, quindi grazie, è stato bellissimo, emozionante, grazie davvero, grazie. La cosa che mi sorprende è che non si torna mai su argomenti già fatti, emergono sempre aspetti nuovi, sempre nozioni nuove, non ci si annoia veramente mai, è stato interessantissimo, bellissimo, penso che sia proprio una risorsa da portare il più possibile nella vita dei bimbi. Mi sono buttata anche perché dopo l'altro corso mi sentivo proprio prontissima, al suo corso ho aggiunto altri tastelli importanti, tanti spunti che spero di mettere presto in pratica. Per ringraziarvi perché è un mondo bellissimo da indagare, è un mondo che è fatto di fantasia, quindi grazie che mi avete fatto scoprire questo lato che non conoscevo. A me è capitato di avere a che fare con i bambini, ma mi avete dato degli strumenti, veramente non riesco a quantificare il numero di spunti di strumenti che mi avete dato, il cervello che è cervello corpo e che sono in fibrillazione, veramente grazie, grazie, grazie. Per me è stato veramente una bomba di energia e per me è stato meraviglioso scoprire, soprattutto dato che sarò mamma, sapere che ho questa parte infantile, bella, spontanea, che posso tirare fuori. Quindi dal punto di vista proprio personale è stato fantastico e vi ringrazio tantissimo, anche a tutte le compagnie perché anche nei lavori si è lavorato benissimo, si è creata proprio una sinergia fantastica, arricchente, bello, bello, bello. È un'esperienza secondo me bellissima, speravo che questo corso mi desse appunto gli strumenti per imparare a trattare i bambini proprio perché io non ne ho esperienza. In realtà oltre a darmi tutti questi strumenti mi ha fatto anche trovare la bambina che avevo soppellito in fondo a di tutti e di più e quindi per questo io vi sono infinitamente grazie. Sono sopraffatta completamente da tutto quello che ci è arrivato, tutto positivo, tutto arricchente. È incredibile come si riesca ad arrivare a un risultato del genere. L'unione che si è creata in questo gruppo, qui non c'è stato assolutamente giudizio, non c'è stata assolutamente vergogna. Grazie veramente, grazie, grazie. Fantastico. Sono veramente molto molto contenta sia dei contenuti ma anche proprio in generale di come l'avete strutturato. Abbiamo veramente trattato tante cose che hanno smosso tantissimo. Un po' ho rivisto tante cose che avevo perso per cui sono proprio contenta. Grazie, grazie, grazie. Io lavoro con i bambini da sei anni ormai. La cosa bella di questo corso è che si è molto improntato su ripartire da zero e quindi dal movimento, proprio dalla nascita fino a quando ci si mette in piedi, che sembrano cose veramente scontate ma non lo sono. Sono la base, sono la base che i bambini si portano avanti tutta la vita. Ci tenevo a fare appunto una riflessione su questa cosa qua da portarvi dietro. Ricordatevelo sempre perché quello che avete imparato è importantissimo. E veramente mettere le basi nei bambini, piccoli piccoli, è una cosa potentissima se la portano dietro per sempre. È stato bellissimo. A parte che ci sono, come hanno detto anche le altre, ci sono tantissimi spunti, tantissime cose anche per gli adulti. Odacca ero uno socio a questo potere magico di creare un'unione che va al di là di qualsiasi cosa. Il lavoro di gruppo è fantastico, abbiamo riso tantissimo, forse anche perché abbiamo giocato tantissimo assieme. Però è stato veramente bellissimo. Mi schiace che sei finito. Io sono super soddisfatta e contenta di questo percorso. E' riuscire anche a creare un momento in cui i bambini possono sentirsi liberi e non in competizione fra di loro. Quindi esprimersi, muoversi senza dover dire devo essere il più bravo, devo vincere. Grazie mille per tutto. Semplicemente vi ringrazio perché ho riabbracciato un po' la bambina che c'è dentro di me e basta. Sennò mi emoziono.